Io ho cominciato a fare musica quando avevo 16 anni e vengo da una base praticamente americana, quindi vengo dal pop, hip hop, gospel, soul, quindi praticamente ho mischiato tutti questi sounds con la cultura siciliana, quindi la musica folk, dal marranzano a tutti gli altri suoni molto culturali, quindi sì, praticamente sono un grande mix di culture. Si presenta così Valeria Romeo in Arte Idda, giovanissima cantautrice e produttrice catanese. La musica ha sempre fatto parte della sua vita e nonostante la giovane età, appena 19 anni, Idda ha le idee chiare, vuole utilizzare le sue canzoni per riflettere l'amore verso la Sicilia, canzoni che sono caratterizzate da un sound fresco e originale, in cui il dialetto siciliano spadroneggia. È un amore viscerale quello che lega l'artista alla sua terra e che si evince subito dal nome d'arte scelto. A Catania anche Idda è l'Etna, quindi una potenza naturale, può essere anche una donna che non ha letteralmente paura di niente, una donna che sa amare, che è passionevole verso la sua terra, verso tutto ciò che ama, con tanto fuoco, con tanto amore fa tutto quello che vuole nella sua vita. Lo scorso anno è uscito Kunta, primo EP di Idda, che è stato preceduto dal singolo Bilenu. Ora Idda è tornata con Cillediri, un nuovo brano che rappresenta la voglia della cantautrice di esplorare il passato in ogni sua sfaccettatura. È letteralmente un sogno, cioè per me è stato un sogno. Mi ricordo che era tipo una notte d'estate e avevo fatto questo sogno che, dicevo, contemplavo, Blavo, te lo devi ricordare perché è troppo bello, praticamente mi ritrovavo in questo tipo riad, bellissimo, con dei papiri, proprio un sogno. E mi ripetevo, lo devi dire, glielo devi raccontare, glielo devi raccontare. Quindi subito, appena mi sono svegliata, ho detto, devo scrivere questa canzone, perché quello che ho visto, secondo me, esisteva un giorno. Infatti in questa canzone mescola il passato, il futuro, il presente della Sicilia e soprattutto molta appartenenza, perché è quello che mi interessa in particolare in questo periodo, dare appartenenza ai ragazzi, che la Sicilia e i siciliani sono importanti nel mondo.